Diciamo introduttivo, che abbiamo intitolato Papà mi dai la mano, che è la classica frase che un papà si sente dire dal proprio bambino quando inizia a camminare, abbiamo giocato proprio su questo aspetto forzatamente ironico e giocoso dell'andare a camminare, perché poi l'andare a camminare è gioia, è divertimento, è sana risate e poi è sana cucina. E questa è la parte gioiosa e divertente. Poi per quel che riguarda me, ma penso anche per quel che riguarda Manuel, per tutti quelli che come noi danno un insegnamento ai bambini che a loro volta hanno ereditato dai propri genitori, c'è un po' la parte nostalgica. Per me personalmente è legato un po' al ricordo di mio papà, io sono nato perché mio papà era già parecchio anziano, però fortunatamente per lui si è mantenuto in buona salute anche nella terza età e quindi essendoci un vario di età tra me e lui molto importante, io con mio papà non ho nessun ricordo di bagno di mare, di partita pallone, di concerti, di musica pop, l'unico ricordo, a parte va bene le cose private della vita di tutti i giorni, ma l'unico ricordo forte è quello del mio papà che mi portava a camminare.